E se vi dicessi che con una busta di gnocchi pronti potreste fare uno snack croccante e buonissimo per il vostro aperitivo? Non mi credevate eh? Avete sentito? Sono troppo buoni! Provateli e farete come me, non saprete resistere! Prendete una busta di gnocchi e versateli in una ciotola. Io ho utilizzato metà busta in quanto ho fatto due varianti. Ho condito con sale, pepe ed erbe aromatiche secche miste. Ho aggiunto un cucchiaio di olio extravergine di oliva e mescolato bene. L'altra metà busta invece l'ho condita con sale, pepe, olio ed abbondante curry piccante, mescolato bene per distribuire tutto il condimento. Poi ho versato gli gnocchi nella teglia della frigitrice ad aria, distribuendoli bene in modo da non farli ammassare. Ho cotto per 10-12 minuti a 200 gradi. Guardate qua! Vedrete che dopo questo tempo diventeranno dorati e croccanti, pronti per uno snack goloso! Grazie!